Regione Toscana, il consiglio regionale. Il consiglio regionale della Toscana ritorna a parlare di acqua e di crisi idrica, con i primi mesi autunnali che hanno registrato pochissime precipitazioni e gli invasi della Toscana che si trovano con volumi di risorsa ammagazzinata ancora lontani dall'obiettivo del ripristino del 90%. È stato il tema del dibattito in consiglio regionale con il confronto tra maggioranza e opposizione. La siccità ha caratterizzato quest'anno in tutta Italia, la Toscana forse un po' meno degli altri perché noi abbiamo bilancino, quest'opera pubblica realizzata grazie alla Regione che ha una funzione importantissima nella Valle dell'Arno per il contenimento dell'acqua d'estate e rilascio graduale, per il trattenimento dell'acqua ai fini di prevenzione dalle alluvioni nel periodo invernale, con bilancino 70 milioni di metri cubi, Monte d'Oglio in Valtiberina 135 milioni di metri cubi e la prospettiva di realizzare altri laghi, laghetti, invasi. Faremo una legge specifica proprio per favorire la costruzione di quello che devono essere i serbatoi che contenendo l'acqua ci consentono ad affrontare i periodi di siccità. Del resto i cambiamenti climatici sono un'evidenza così forte nel nostro tempo e oggi ho relazionato proprio sul fatto che abbiamo ottenuto 4 milioni e 2 dal governo nella dichiarazione in stato di siccità all'inizio di agosto. Questo è stato un risultato positivo, ricordo sui giornali veniva ma come mai nella pianura padana 5 regioni hanno ottenuto risorse nel centro Italia, non è avvenuto così. Ecco, nelle settimane successive in realtà quello che sono state le esigenze che abbiamo documentato e che portarono anche in Toscana lo stato di calamità da un punto di vista regionale e poi la richiesta dello stato di emergenza a livello nazionale hanno trovato soddisfazione. Ma contemporaneamente appunto le modifiche di legge, la previsione puntuale di interventi che portino laghi, laghetti invasi a calmierare una situazione che altrimenti con quello che sono le modifiche del clima può creare problemi tutti gli anni. La crisi idica al pari della crisi energetica è una tra le grandi emergenze che siamo chiamati a gestire in questa fase legislativa del governo della regione toscana. Bene le risorse arrivate dal governo precedente, da Draghi, per cercare di risolvere in termini infrastrutturali un gap che esiste, serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare le opere pubbliche e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorsi e della regione stessa per cercare di rendere la nostra regione, di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. Si parla di 4 milioni e 300 mila euro che sono arrivati in Toscana per fronteggiare questa criticità. Ciò che manca però a nostro avviso è la parola investimenti. Noi non possiamo continuare ad intervenire esclusivamente sotto un profilo emergenziale. Investimenti strutturali, programmazione sono queste diciamo le sfide che attendono la Toscana delle quali si sente poco parlare. Continuiamo a parlare di opere importanti che però sono opere che ormai risalgono nei decenni. Si parla sempre di bilancino. Ecco il modello bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana che però non vediamo. Vediamo invece che si continua a parlare di situazioni contingenti, investimenti in autobotti. Nel 2022 francamente questo è inaccettabile. Per non parlare poi delle perdite del servizio idrico. In realtà noi abbiamo scelto decenni fa di gestire, di far gestire la risorsa idrica a delle società partecipate. Oggi il tema ritorna all'odio del giorno con le multi utility. Questo modello di gestione ha le sue criticità perché di fatto gli investimenti non sono stati fatti nel modo adeguato. Investire oggi risorse del PNR facendole passare come una grande conquista sugli investimenti io credo che denoti invece che nel passato ciò che doveva essere fatto su questo fronte non è stato fatto. Finalmente siamo riusciti a parlare dell'emergenza idrica che sembra alle spalle ma in realtà incombe già sul 2023. Infatti i livelli di accumulo che l'autorità idrica toscana ci dice sono stati raggiunti ad oggi e si raggiungeranno nella prossima primavera sono molto bassi e quindi rischiamo anche per il 2023 una situazione difficile. La regione toscana chiese l'emergenza nazionale che è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo di settembre. Sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie dalle autobotti al miglioramento al recupero di alcuni pozzi di attingimento senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua ovvero sia da una parte lottare agli sprechi alla perdita che in Toscana monta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite. Dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Montedoglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse e potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua soprattutto alla Toscana del Sud, idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. Abbiamo dibattuto a lungo, io a marzo scorso avevo già presentato un primo atto non considerato dalla maggioranza dove già all'epoca tenevo a due temi, al fatto che dovevamo dichiarare lo stato di emergenza perché già a marzo le associazioni di categoria, gli agricoltori ci dicevano che il rischio di siccità era alto. Il secondo punto era quello che già all'epoca chiedevo l'intervento, un'analisi su progetti di bacini di accumulo. Siamo a novembre finalmente la Giunta regionale, la maggioranza guida PD ha capito che è un tema che va attenzionato e finalmente oggi ci presenta, dopo aver chiesto a luglio, quindi diversi mesi dopo, lo stato di emergenza, ci presenta quelle che sono state le attività svolte in emergenza nel periodo estivo e ci dice che terrà e attenzionerà il tema dell'emergenza idrica con la realizzazione, purtroppo non sappiamo ancora quando, i tempi saranno lunghi, di bacini di accumulo. Un altro tema che noi abbiamo attenzionato all'epoca, che ancora oggi abbiamo sottolineato, su cui l'assessore Monni si è presa l'impegno è quello di analizzare le tantissime cave di smesse che sono presenti in Toscana e renderle anche quelle bacini di accumulo, perché crediamo che con questi due tipi di intervento non si possa risolvere al 100% il tema dell'emergenza idrica, ma si possa dare un grande aiuto a tutta la Toscana. L'assessore ha preso degli impegni, quelli di relazionare con tempistiche chiare anche alla Commissione competente. Noi attendiamo, però annunciando già oggi che il problema non si risolverà per il prossimo periodo estivo, perché già oggi ci viene detto che dovrà piovere più del dovuto fino a maggio per poter vedere una piccola risoluzione del problema. Quindi già oggi annunciamo che nella prossima estate torneremo ad essere in emergenza e che purtroppo la regione toscana dal marzo scorso al giorno in cui torneremo ad essere in emergenza nella prossima estate non avrà ancora risolto il problema. I dati parlano chiaro. Di 4 milioni e 300 mila euro che il Ministero ha destinato alla Toscana per la gestione dell'emergenza idrica, metà sono andati a spostare autobotti di acqua da una parte all'altra della Toscana, con tutte le considerazioni che possono essere fatti. L'altra metà sono andate a interventi di natura ordinaria. E questo cosa significa? Che la regione, non da questa legislatura ma da quelle precedenti, non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni. E questo ci ha portato oggi a una grave emergenza idrica, non soltanto il cambiamento climatico. Basti pensare che in alcune aree della Toscana la metà dell'acqua che circola nella rete viene persa all'interno degli acquedotti e che il tubo che collega praticamente l'isola d'Elba e la costa in questo momento è vecchio di 30 anni e potrebbe rompersi da un momento all'altro lasciando l'isola d'Elba senza acqua. In questo momento si sta progettando invece un dissalatore per produrre dell'acqua all'isola d'Elba con grandissimo costo dal punto di vista dell'energia e metterlo in una rete che perde il 43%. Insomma nessuna capacità di programmazione, nessuna capacità di manutenzione ordinaria al punto che abbiamo perdite gravissime. L'ottimismo che ha manifestato il presidente Gianni nel commentare e la comunicazione dell'assessore Amoni è assolutamente inspiegabile perché ci stiamo per trovare davanti, come ci ha spiegato il Lamma, più volte che è un organismo che lavora per la regione toscana. L'acqua in realtà, la piovosità non è diminuita, si concentra in alcuni periodi con lunghi altri periodi di siccità. Quindi il grosso problema della regione toscana è quello di riuscire a controllare l'acqua piovana e soprattutto anche non permettere degli emungimenti massivi, specialmente da parte di certe industrie, laddove invece poi l'agricoltura o addirittura le civili abitazioni si trovano a non avere acqua da utilizzare. Ecco, questa è l'ulteriore mancanza da parte della regione, oltre all'incapacità di saper gestire la risorsa che hanno. Gli Stati Generali della Sanità in Toscana proseguono e presentano le attività sui territori. Conferenza stampa in Consiglio regionale per stimolare il lavoro sul tema della sanità e in particolare per presentare il tour che sarà svolto dalla Commissione Sanità nel Territorio per toccare con mano e conoscere le tante realtà territoriali che si occupano di sanità. Noi intanto immaginiamo di avviare un'attività che voglia diventare un'attività istituzionale della Commissione, cioè non di fare una visita sporadica al sistema sanitario, ma che dopo tutto il lavoro degli Stati Generali, poi non l'avevamo potuto far partire per il Covid, insomma per tanti motivi, ma riteniamo che l'attività di incontro degli operatori e dei lavoratori nei luoghi stessi di lavoro dove si articola la sanità regionale sia un compito anche del Consiglio regionale. Il pregiudiziale a tutta la possibilità di ottenere grandi risultati nel rilancio del sistema pubblico sono le risorse economiche, quindi l'adeguamento rispetto al PIL, faccio notare che nel documento di bilancio approvato recentemente dal Governo c'è un arretramento rispetto al PIL nel finanziamento del sistema sanitario. Io non ne voglio fare una questione politica, però penso sia una battaglia di tutti il fatto che questo Paese dopo il Covid doveva aver imparato una cosa, che il livello del finanziamento del Fondo sanitario nazionale deve essere in linea rispetto al PIL a quello degli altri Paesi europei, quindi deve essere aumentato almeno uno o due punti percentuali e poi l'eliminazione di qualsiasi limite alla spesa di personale, perché noi oggi anche con l'appareggio di bilancio non possiamo assumere alcune figure di personale, perché c'è sempre il limite del 1,4, del 2004 ridotto del 1,4, che è una roba che serve soltanto, non ha una motivazione di tutela degli equilibri pubblici, ma solo una funzione di riduzione e di creare difficoltà ai sistemi che sono veramente pubblici, perché quei soldi se si danno a un privato convenzionato si possono usare, se si danno a un soggetto che eroga servizi si possono fare, ma non si possono usare per assumere personale e non ha nessuna logica. Il nostro lavoro come Consiglio regionale deve essere quello di sostenere da un lato le progettualità che arrivano dalla Giunta, ma dall'altro anche mettere in campo iniziative che possano aiutare il lavoro che ogni giorno la Giunta, le direzioni generali delle varie AS, delle aziende ospedaliere fanno. Voglio ringraziare il Presidente Sostegni, perché dopo gli Stati Generali della Sanità che hanno prodotto una risoluzione che ora si sta trasformando in proposte di legge, ora questo viaggio nei territori è un modo per mandare un messaggio chiaro, soprattutto ai professionisti e alle professioniste della sanità, a coloro i quali ogni giorno in questi anni, ancora di più che nel passato, sono stato in prima linea e richiedono risposte, risposte dal punto di vista delle risorse che noi mettiamo in campo, lo diceva prima il Presidente Sostegni, di quanta fatica si fa nel reperire queste risorse e a loro dare risposte e dargli una prospettiva. Ecco, questo viaggio serve per conoscere le criticità ancora di più che ci sono nel sistema, le eccellenze che produce il nostro sistema per fare anche programmazione, perché poi il nostro compito è questo. Quindi io ringrazio il Presidente Sostegni perché non sarà uno sforzo banale quello di andare in tutti i luoghi della sanità toscana, luoghi fatti di eccellenze ma anche di criticità da conoscere e cercare di superare. Ringraziando lui ringrazio anche tutta la Commissione perché svolgono un lavoro importante e spesso lo fanno come dovrebbe essere nelle istituzioni, senza cappello politico, diciamo partitico, ma cercando di mettere il cittadino al centro e di dare le risposte che servono. Questo è il modo corretto con cui abbiamo approcciato in questi anni e con cui continueremo ad approcciare i lavori consigliari.